No, 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 perché non ha... Anna, Anna, io ho bisogno di spiegare una cosa. Mi devi spiegare che? Se mi dai un attimo di tempo ti spiego, d'accordo? Ma dove vai? Ma dicevi che non lo ascolto. Com'è, tu vieni qua con le stagioni. Mi guardi, sono identiche, lo strontro ci ha regalato due passette identiche. Mi hai regalato proprio... Ma allora davvero tu e Ugo? Ecco, l'hai capito, sì, finalmente. Ah, non sono andato nel caso.